Sono oltre 34 detenuti che nel 2024 si sono tolti la vita. Il carcere oggi rappresenta lo specchio di una civiltà giuridica che spesso cammina su slogan e non su servizi e strutture. Su queste e altre problematiche si ferma lo spettacolo Storie sbagliate, scritte da Roberto Tenisi, giudice penale per oltre 40 anni, in scene il prossimo 24 maggio a Taviano, presso il Teatro Fasano. Storie sbagliate, cosa voleva trasmettere? È uno spettacolo sul carcere. Sul carcere è più in generale sulla pena e anche sul confine che c'è tra il bene e il male, che non sempre è così netto come si può pensare. È frutto di esperienze in gran parte professionali e quindi racconta della situazione carceraria oggi in Italia, vista da un magistrato penale che quindi ha più volte condannato imputati e che però ha sempre avuto, non dico il rimorso, ma quasi una sensazione di disagio, sapendo che la situazione carceraria purtroppo non è quella disegnata dalla nostra Costituzione. Nel suo spettacolo teatrale la giustizia regna sovrana o alle volte è debitrice verso i casi umani? La giustizia è sempre debitrice verso i casi umani, secondo me, perché vi sono casi che la giustizia è un conto, poi sono le esperienze delle persone alle quali bisogna guardare negli occhi, io dico sempre. Qualsiasi giudice, anche prima di rogare la sentenza, deve guardare negli occhi il suo imputato e capire l'umanità che ha di fronte. Uno spettacolo che anche attraverso immagini e canzoni porterà i presenti a riflettere sugli eterni interrogativi dell'esistenza. Come trasmettere al pubblico una storia, un patos così intenso? Abbiamo cercato di andare all'essenziale con i vari personaggi che si avvicendano. Ciascuno di loro, ciascuna di queste figure porta in campo un'istanza, un bisogno disatteso, un'incomprensione.